Il buio è spesso silenzio, tranquillità, è notte, ma può essere anche inquietudine, paura. Nasconde le cose belle da vedere ed è peccato, ma nasconde anche le cose brutte da vedere ed è un sollievo. Il buio è multiforme, va accettato, va preso per quel che è. Quando ero ragazzino vidi un film che raccontava del buio sociale, di un'ingiustizia palese di cui tutti sapevano ma che nessuno aveva il coraggio di additare come tale. Un film che raccontava anche di un giardino vicino nel quale era meglio non andare perché c'erano delle cose da tenere nascoste o delle cose da lasciare per conto proprio. Il film era il buio oltre la siepe, un film curioso, un film intelligente contro l'ingiustizia e a favore della curiosità verso il mondo, verso gli altri.